Ho un microfono davanti, sto pronto ad attaccare Trappi neppi e cenocchi, non posso sbagliare Il rap è la mia droga, la mia vita è il mio stare Pietro all'intervista, pronti a ricordare Le strade di questo sport sono piene di ostacoli Ma la mia fede e la mia passione sono incredibili Studio, set e tv, l'avventura è iniziata Le mie rime taglienti come una lama affilata Le mie rime taglienti come una lama affilata Studio, set e tv e sport picciano game presentano L'intervista di Pietro, ospite della puntata Benvenuti alla nuova puntata, oggi parliamo del monte del doppiaggio Abbiamo ospite Giulio Sassanelli A questo punto, per chi non ti conosce Ma poi nel tempo ti conoscerà Soprattutto con la voce ti conoscerà Perché persona, ovviamente, non si vede ma si sente la voce A questo punto, la prima domanda che ci viene spontanea Se dovessi descrivere oggi chi è Giulio, come lo descriveresti? Allora Giulio non lo sa chi è, ma proviamo a descriverlo È una persona che si diverte molto in quello che fa E diversamente non avrebbe mai cambiato vita Perché io comunque vengo da un altro contesto Ho fatto teatro diversi anni Ma non l'ho fatto mai seriamente Sono sempre divertito nel mio contesto locale Io sono pugliese Ma non avevo mai pensato di... O meglio, ci ho pensato Ma poi non c'è mai stato veramente il desiderio Il cuore non ha pulsato in quella direzione Fino a quando poi non ho scoperto un'accademia di doppiaggio a Bari Curata da Massimo Giuliani Quindi Giulio è una persona che Fin quando non sente veramente che vuole fare qualcosa Non la fa Ci pensa, ma poi alla fine serve sempre una spinta profonda per farlo agire Non manca l'istinto, non manca la spontaneità Però in effetti poi tutte le cose che fa Giulio è perché le vuole veramente fare Non fa mai niente per caso Ricordiamo che per chi ancora non comprende che il doppiaggio è una specializzazione In questo caso anche il master di doppiaggio Perché è una branca del mondo attoriale Che si attori non solo con i gesti ma a volte anche con le parole Che è il mondo dell'oppiaggio A questo punto però l'idea proprio di quando hai iniziato a partire con il teatro Quando ti nasce l'idea di provare a recitare e salire su un palco? A 15 anni Comunque piccolino, non piccolissimo ma comunque giovane Si comincia per scherzo facendo imitazioni ai professori Molte iniziano così e poi la commedia a scuola Poi la compagnia locale Poi magari qualche attore di qualche città vicina Ti nota e ti chiede vuoi fare questa parte in questo spettacolo Si comincia sempre così gradualmente Poi ne scrivi uno tu Ti specializzi in un genere Nel mio caso satira politica Quindi comunque rimanendo nel teatro comico Però poi ecco Serve fare un passo successivo E proporsi a un pubblico che non ha delle barriere A livello di contenuti A livello di geografia Insomma fare degli spettacoli in dialetto Poi ti limita a una cerchia ristretta di pubblico Invece parlando di temi che riguardano la nazione Parlando in italiano Ti consente di farti ascoltare e vedere da tutti quanti E poi dopo chiaramente Questa prensia, questa conoscenza Perché poi si passa a conoscere il mondo del doppiaggio Ti è nata l'idea di provare a dare voce Ai personaggi che in realtà Poi possono essere sia italiani che stranieri A quel punto Qual è stato quel momento del passaggio Del capire che anche quella parte faceva parte di te Allora io da sempre ho guardato E riguardato i film Molto spesso appunto li riguardo Perché mi piacciono molto Mi voglio ubriacare di quelle stesse emozioni Allora li riguardo Magari con altre lingue Magari mandando indietro alcune scene Perché mi è sempre piaciuto quel mondo Il cinema Non ho mai voluto fare l'attore di presa diretta Questo non mi ha mai sfiorato Quest'idea non mi ha mai sfiorato Però ho avuto sempre la passione e la memoria Per le battute importanti Ne dico una a caso Quella famosa di Luca Ward Nel gladiatore Scala mio segnale Scatenate l'inferno Ecco per dirne una Come quella tante altre battute di altri film Ho memorizzato e spesso anche riportato nella realtà Le ripetevo magari come sarebbe Come le avrei dette io Come sarebbe stato dirle Ma non conoscevo il mondo del doppiaggio Ma assolutamente no Com'è nata l'idea? Semplicemente ho scoperto Che c'era un'accademia nella mia zona Perché il doppiaggio Che se ne dica si fa a Roma Un po' a Milano Un po' a Torino Ma a Bari no Non c'è mai stata Fino al 2017 Una vera accademia Poi ce ne sono arrivate anche di altre Però quella che io ho scoperto L'accademia Amarcord Di Massimo Giuliani e Tiziano Lattuca Era poi fisicamente presente a Bari Non erano online le lezioni Quindi bisognava andare ogni settimana A Bari per fare queste lezioni Io in quel periodo Lavoravo in azienda Ho studiato marketing, turismo Quindi vengo da un altro mondo in quel senso E quindi il venerdì pomeriggio andavo a lezione All'inizio l'ho presa per gioco Non avevo minimamente idea Che questo potesse diventare Un qualcosa di serio L'ho capito subito però Perché il maestro Massimo Giuliani Io lo chiamo il maestro Da subito ci ha detto Allora Se voi volete Venire qui Fare lezione Anche imparare Ma poi A casa Non esercitarvi Non prenderla seriamente Non pensare In un giorno Di trasferirvi a Roma Di iniziare questo percorso Fatelo pure Ma se Siete qui Perché volete imparare un mestiere E un giorno Proporvi per farlo Sappiate che Deve esistere solo quello Non ci dovete dormire la notte Non Dovete avere distrazioni Di alcun tipo Tutti i giorni Dovete fare questo Questo e quest'altro Esercizio E morirci Alla fine Avere un Una vera Insomma Una vena in più Che Che viene fuori Perché Questo deve essere Nient'altro Dopo un mese di accademia Comunicai in azienda Che me ne sarei andato Marketing In questo caso Ti è stato utile Perché sei stato capace Non solo Di imparare Questo mestiere Ma sei stato capace Di venderti Perché in questo mondo Bisogna sapere anche Fare marketing Di se stesso Giusto Io di persona Penso di saperci fare Un po' di più Perché Poi Anche Adesso abbiamo diversi canali Ci sono i social Le mail Eccetera Ma poi alla fine Nel doppiaggio Conta Quanto tu sia bravo All'Eggio Quindi per quanto Tu possa venderti bene E ci sono persone Che sanno farlo Poi la differenza Si vede all'Eggio Quindi Anche Anche L'abbigliamento Dico una cavolata Anche farsi vedere Vestiti in un certo modo Con lo zainetto E la borraccia Per un direttore Di doppiaggio È un segno Di Di essere Di vedere una persona Che sia integrata In quel mondo Perché Che cosa vuol dire Poi che uno va con lo zainetto La borraccia Perché va in giro Tutti i giorni Per gli studi Quindi non è che torna a casa Eccetera A parte la mattina Si fa tutti gli studi Chiedendo un provino Lavorando O semplicemente assistendo Perché quello è Poi Il Quella è l'abitudine Del doppiatore Stare tutto il giorno in giro Andare prima in quello studio Poi in quell'altro Poi magari Nel frattempo Sbrigare una commissione Però stare sempre in giro Quindi Già una persona Che è abituata In quel senso Quindi ecco Forse quello È un Parlando sempre di marketing E di Modo di presentarsi Quello è un Ottimo consiglio Che darei a chiunque E Infatti molto spesso Vado in giro Con lo zaino vuoto Soltanto per far vedere Che sono un doppiatore Anche se emergente Comunque Sì Quello Può essere molto utile Intanto Quante è stato Le sensazioni Che hai provato La prima volta Che ti sei messo Come allievo Davanti al leggio Che ti hanno detto Va bene Proviamo per la prima volta Questa scena Questa Queste battute A questo punto Qual è stata La tua sensazione Se ancora Te la ricordi Me la ricordo benissimo Era Io fui il primo Della classe Ad andare al leggio Sempre perché Ricordo Ripeto Non mi manca L'istinto Non mi manca Il coraggio Anzi Dovrebbe forse Dovrei avere più Accortezza In certi casi Meglio mandare avanti Gli altri In alcuni casi Ma volevo farlo Andare al leggio Era una scena Del film Il grande freddo Il film Insomma Del secolo scorso Molto bello E io non capì Nulla Io a fatica Riuscivo a capire Dove fosse il mio personaggio Perché poi Massimo ha avuto Sempre con noi Un approccio Molto Una terapia d'urto Se vogliamo Ovvero Intanto prova Che poi pian piano Ti insegno Allora Tu sei quello Ricordo Che siamo in esterna Era una scena Dove lui aiutava Ad altri A parcheggiare Era apparentemente Semplice Però Effettivamente Tu non ci pensi Perché sei in esterna E quindi la voce Va portata Non fatto di volume Proprio di portato È diverso Da quando si parla In una stanza Dove si va Su frequenze più basse Quindi tutti questi dettagli Pian piano Ci venivano insegnati All'inizio Io non capivo nulla Di quello che stessi facendo E mi dimenticavo Poi la cosa più importante Che è Recitare Essere spontanei Perché comunque Anche se per finta La situazione Che stai vedendo Sullo schermo È reale Cioè Può capitare mille volte Di stare in un parcheggio O di accogliere Degli ospiti Sono situazioni Che nella vita Accadono Quindi vanno Reinterpretate Come le hanno fatti Gli attori Ma traendo sempre Dal vero Poi Poi nella stessa difficoltà Nel sync Nel sync Che si presentava Perché vedere E leggere Sono due cose Riuscire a capire E leggere E vedere l'immagine È un po' Un po' Più complessa Questa cosa Sì Per fortuna Nel doppiaggio Si hanno tre fonti Per seguire Quello Per fare il lavoro Il visivo Perché comunque Abbiamo Abbiamo la clip Il sonoro In cuffia E il testo Quindi A meno che Non si voglia andare Alcuni lo fanno Io non l'ho mai Mai sperimentato Andare senza cuffia Quindi basandosi Semplicemente Sul testo E sul visivo È un modo Ma quando Comunque C'è tanto da dire E forse il sonoro In quel caso Aiuta Forse sì Perché Diventa poi difficile Andargli appresso Gli attori bravi Sono più facili Da seguire Anche Nel sync Gli attori bravi Riescono a evidenziare Ogni singolo concetto Anche le frasi buttate Loro riescono A dare comunque Importanza E aiutare poi Noi doppiatori Perché noi Alla fine Dobbiamo Teoricamente Detta così In maniera spicciola Rifare quello Che è stato già fatto Quindi se è stato fatto bene In teoria Noi dovremmo essere in grado Di farlo altrettanto bene Non è sempre così E invece poi A questo punto A un certo punto È arrivato il primo lavoro Che sono stato Dungeons and Dragons E poi Poi successivi Altri lavori Che cosa ti rimane Del primo lavoro E soprattutto Quando effettivamente Sei stato Ti hanno detto Ok La tua parte È questa Perfetto E sei entrato Nella Anche perché Sei entrato da solo Oppure Dungeons and Dragons Ancora c'era possibilità Di avere anche Colleghi accanto In Dungeons and Dragons Non ero mai solo Avevo sempre Colleghi accanto Ovviamente Ho avuto Delle Piccolissime Piccolissimi momenti In cui Parlo solo io Ma insomma Era Erano comunque scene Di gruppo Quindi a volte Si fatica anche A sentire Ho un ottimo Ricordo Come l'ho anche Di altri prodotti Insomma Ho iniziato Facendo prodotti italiani Per scaldarci un po' Per prendere Confidenza Con l'Eggio Di prodotti Internazionali Io ricordo Poi vado nel dettaglio Dopo Dungeons and Dragons C'è stato È stata una commedia Francese Due matrimoni alla volta Di cui adesso Dirò una cosa carina Assassino a Venezia Quello di Poirot E poi Ultimamente Ho doppiato Una docu-serie Su Netflix Però non con Massimo Ma con Gian Paolo Gammino Ho un bel ricordo Ma più che bello È una cosa Che mi ha fatto Molto piacere Di due matrimoni alla volta Io doppiavo un postino Che arrivava a fine film Per consegnare un pacco Diceva anche Pochissime battute Ma Io guardando la scena Poi vidi Questo omone Di colore Oltre i 50 anni Io ne ho 33 E non mi sono poi Lì posto il problema Perché mi fido ciecamente Se Massimo mi dà Quel personaggio Evidentemente Pensa che io sia in grado O comunque Possa starci bene E comunque Era sempre un omone nero Molto pesante Di colore Quindi hanno una vocalità Diversa Hanno Gli uomini Insomma che pesano Più di 100 kg Hanno un respiro diverso È vero che diceva Due battute Però Ecco lì per lì Io per fortuna Non ho minimamente Pensato alla vocalità Alla A come un uomo Di colore Possa parlare Mi sono soffermato Soltanto sul fatto Che lui stesse sorridendo Perché nella scena Facevano uno scherzo Al protagonista Ed evidentemente Il postino Era complice E quindi Sono andato Semplicemente Sorridendo Guardando lui Con la mia voce E non me l'ha fatta di fare Io pensavo Ok sicuramente Mi dirà No Giulio Appesantisci Ti un po' Guarda che quello C'è un respiro diverso Invece No Non me la fece di fare Neanche una volta Andava bene uguale E risentendola Poi perché andai al cinema A vedermi Effettivamente Ci stava bene Questo per dire che cosa Che Intanto fidatevi Dei direttori Che possono sbagliare Però Sono sempre persone Che fanno questo mestiere Da più tempo di noi Quindi Loro sanno Per fortuna Nel doppiaggio Non c'è tanta democrazia Uno si va in sala E deve fare quello Che gli danno da fare Almeno per noi Che siamo all'inizio Non abbiamo Diritto di replica O insomma Posizioni contrattuali E Per concludere Insomma ecco È bello scoprire Anche che si possono fare cose Che fino al giorno prima Non si pensava Di poter fare Quindi questo Questo è un aneddoto Che per adesso Mi è importante E Qual è stata Perché un po' Un pochettino Quando tu entri In una sala Qual è stata La tua sensazione Per la prima volta Sentirti Vederti Sentire la tua voce Nel grande schermo E seduto In platea Stavi Ascoltare E dice Quello sono io E qual è la tua Stata reazione E la sensazione Anche di chi Ti stava accanto Se Avevi persone Amici O Sì Sì Allora All'inizio Chiaramente Nei prodotti Dove si fa poco Passa la scena E chi sta a fianco Dice Aspetta Ma eri tu quello Sì Sì Ero io Ah ma non sembravi Non ti ho neanche riconosciuto Ecco Premesso che Altre volte Quando mi risentivo Volevo spegnere Immediatamente Quando invece Poi passa al cinema E Lì è venuta bene Per forza Perché appunto Sono prodotti Che Dove non si può sbagliare E quindi Mi risentivo In quel caso Piacevolmente Doppiamente Contento Se non mi Riconoscevo Cioè se per un attimo Pensavo No ok Dimenticati che hai fatto Quel film Senti Ti ricorda qualcuno No In quel caso Vuol dire che il lavoro È stato fatto bene Quando sei totalmente Estraneo da te stesso Che ti sei posto Totalmente al servizio Di quello che stava da fare Anche per dire Buongiorno e buonasera Hai raggiunto lo scopo Quindi Abbandonare i tuoi panni La tua I tuoi pensieri Per stare in quella scena Quindi sì Altre volte ovviamente Mi sono riconosciuto E Mi ha fatto semplicemente Piacere Aver contribuito A prodotti del genere Urlare Poirot Chiamando il detective In assassino a Venezia Per me è stato Un bel Un bel momento E Veramente C'è stato qualche tuo collega In passato Che ci ha detto Io A quei tempi Ero fidanzato Andai a vedere un film Che lei diceva Che era tantissimo Importante Bello Importante Del periodo E in sé Era un film A tre personaggi Tre scene Separate A un certo punto Lui disse Ma A un certo punto Guardò lo schermo E disse Ma io questa voce La conosco Questa voce La conosco A un certo punto Dice Ma veramente sono io Perché lui L'aveva doppiata Sei mesi prima Un anno prima Ma con il titolo originale In inglese Quindi Non si A un certo punto Diceva E lei gli diceva Ma scusa Ma non ti riconosci Che sei tu No veramente no Perché io lo conosco Il film Con un altro titolo Quindi Invece Entrando nelle sale Di Hai mai assistito Alle varie sedute Che Che sensazioni Hai provato In quel momento Quando di fronte Hai avuto un collega E probabilmente Con maggiore esperienza Hai imparato A rubare Con gli occhi O con le orecchie Ciò che I loro modi Ma soprattutto Adattarle Alle tue caratteristiche Per poter Migliorare Il tuo modo Di lavorare Sì Alcuni consigli Li ho visti Insomma Li ho appresi Guardando Altri Anche semplicemente Tramite messaggi Di colleghi Di amici Che dicono Guarda Io ti consiglio Di fare questo Per esempio Mi dico una Ci dicono sempre La prima La prima passata Guardatela E basta Sacro santa verità Perché bisogna Poi non distrarsi mai Cercare veramente Di prendere Tutto quello Che si può prendere Dalla prima passata Ma è anche vero Che Sapere In anticipo Di che cosa Si sta parlando È anche Un buon aiuto Quindi Prima ancora Di far passare La scena Chiedere un momento Al direttore Alfonico Per leggere il testo Può essere Un ottimo Un ottimo aiuto E per fortuna Sì ho avuto Diverse Occasioni Per assistere A turni Dove c'erano Attori Veramente Importanti Dico qualche nome Simone D'Andrea Alessio Cigliano Andrea Mete Claudia Razzi Laura Romano Insomma Persone Che Fanno questo mestiere Direi In ciabatte Per quanto poi Arrivati a leggio Danno tutti Danno tutto Loro stessi Però loro Sono a un livello Talmente Più elevato Rispetto al mio Che si rischierebbe Di Perdere qualche passaggio Insomma È il classico esempio Dell'insegnante di danza Che aveva Che già Autosnodato E che quindi Non ha dovuto Lavorare tanto Su se stesso Sui muscoli Per arrivare A quell'estensione Di gamba Credo che anche In questo caso I consigli Vadano presi Gradualmente Sempre da Un po' dai grandi Un po' Anche da chi Stato un livello Intermedio Perché poi Alla fine Il consiglio Che mi può dare Dico Un nome importantissimo Stefano Desando Dice io ti consiglio Di fare questo Ma magari lui Ha un livello Talmente alto Che dà per scontato Delle cose Che io invece Non ho E quindi Rischierei Di Magari Per fare bene Una cosa Da grandi Di perdermi Delle banalità Ecco Quindi Bisogna sempre Prendere i consigli Da tutti Anche da colleghi Emergenti O anche magari Da ragazzi Che studiano ancora In accademia Che hanno dei colpi Di genio Quindi si impara Sempre Sempre E comunque Il miglior consiglio Che ti porti dietro Per ora Che ti è stato Dato Ad esempio Da un direttore Di doppiaggio Che Ti porti Perché Comunque vada In fondo Ti ha fatto Crescere Ti fa Sta facendo crescere Ti fa migliorare E che Sì Sicuramente Da massimo Quando ci ha detto Che noi Noi serviamo Noi siamo lì Per servire Non siamo lì Per imporre Noi stessi Per quanto Oggi Molti doppiatori Appunto Come dicevamo Prima Vendono Il loro prodotto Se così Si può dire Quindi vendono Il loro personaggio La loro vocalità Teoricamente Questo è sbagliato Noi dovremmo Semplicemente Andare lì Recitare E porci al servizio Di un personaggio Perché Questo invece Me l'ha detto Davide Lepore Noi doppiamo I personaggi Non doppiamo Gli attori Quindi anche Per un doppiatore Che magari È voce ufficiale Di Teoricamente Non dovrebbe Dire Vabbè Si tanto Quest'attore Lo conosco So come recita Lui è Quell'attore Ma sta recitando Un altro personaggio Quindi sicuramente Dovrà dargli Qualcosa di diverso Il consiglio Che mi porto Sempre dietro È questo Quello che mi ha detto Massimo Ricordati Ricordatevi Perché lo disse Poi a tutti quanti In classe Che siete lì Al servizio Di qualcosa Di diverso Un personaggio Che ha altri pensieri Un altro trascorso Non siete voi Dovete metterci Delle vere emozioni Questo sì Ma ricordatevi Che non siete voi Quindi qualunque cosa Accada Sullo schermo Lo dovete fare Senza pudore Senza problemi Senza vergogna Qualc'altro Tuo collega Mi disse Che è come salire Su una sessola Di un uomo psicologo Dove in realtà Si è uno Nessuno Centomila Filando Pirandello Cioè Se è una mattina Si è un assassino Il pomeriggio Si è un prete La sera Si è un Medico Indifferentemente Dalla situazione Poi Quando effettivamente Conta La respirazione Perché poi Il microfono È quello Che da voce Alla voce Voi non Non gesticolate Non vi muove Anche se poi Nella recitazione A volte c'è Quella sensazione In movimento Perché se un pochettino Si ha Nel caso della corsa Un pochettino Quella sensazione Di affanno Però Quanto la respirazione Può aumentare E migliorare La voce Ma soprattutto Dà anche Sensazioni Emozionali Nella stessa voce Intanto La respirazione Si usa E banalmente Direi Come ci è stato Anche l'insegnato Bisogna guardare L'attore Perché l'attore Sicuramente respirerà Quindi Seguirlo Nei respiri E metà del lavoro Perché Poi c'è il respiro Per la fatica Ci può essere il respiro Per magari Una soddisfazione personale Di aver concluso Il lavoro odierno Finalmente La giornata è finita Cioè un respiro Per esempio Di questo tipo Non è che io mi sto stancando Però è un pensiero Di appunto Soddisfazione personale Sono tutte cose Che vanno osservate E vanno Rapidamente Interpretate Perché lì Fa quel respiro Non è affaticato Non sta correndo Quindi evidentemente La battuta Che dice dopo Mi può Per la battuta Da dire dopo Mi posso aiutare Capendo perché Ha fatto quel respiro Lì O anche per esempio Durante il discorso Capita che qualcuno Si possa chinare Qualche attore Si possa chinare A raccogliere un oggetto E lì Dobbiamo metterci Qualche sforzo in più Contrarre l'addome Dico cose Adesso a caso Però sì La respirazione Va usata Il corpo Va usato Anzi Molto spesso Vedo colleghi Muoversi Col corpo Anche se L'attore è fermo Perché Si dà un po' Più di carica Di forza Alla voce Se rimango fermo A parlare Devo sforzare Più la gola Se invece Mi muovo con il corpo Adesso sto muovendo Un po' le spalle Si emette un suono Diverso Che se devo mettere Un po' più di carica Mi può aiutare Certo Il corpo E la respirazione Cioè La respirazione Chiaramente È più un fatto tecnico È più un fatto di utilità Perché se prende fiato Per dire una cosa Di otto minuti Allora devo prendere il fiato Al momento giusto Per non incorrere Di andare poi A fine battuta Con il fiato corto E invece Quando osservi un film Segui una serie Certamente Come tutti Vedono Vediamo la televisione Vediamo anche Le piattaforme Ti nasce l'istinto Di dire Ok Ma Quella voce Quello Lo conosco Quello non lo conosco Quello mi piacerebbe Conoscere E dire Oppure Quando te lo passi Passa davanti Lo senti parlare Ti viene istintivamente E poi non lo fai Però dire È passato Quel personaggio Ti viene il sorriso Perché in fondo Ci si è cresciuto Anche con quel personaggio Sì Sono pezzi di storia Che ognuno Ognuno ha il suo O i suoi Non parlo ovviamente Di cose che ho fatto io Perché Sono poche Insomma Non me le ricorderei neanche Però Sì Ci sono Ci sono dei personaggi Che Poi Diventa emozionante Quando conosci anche Il doppiatore La persona che gli ha dato la voce Lì diventa veramente Strano Poi Andare a rivedere il film Ricordando magari Quel doppiatore Come mi ha parlato Nella vita di tutti i giorni Quindi sì Ci sono sempre queste emozioni E Casi in cui Addirittura Il doppiatore Diventa più bravo Dell'attore Ci sono Sono pochi Ma ci sono Uno su tutti Il sergente Hartman Un film Di Kubrick Insomma Il film è Full Metal Jacket Il personaggio Del sergente Hartman L'attore Che l'ha interpretato È un reale Insomma Ufficiale Dell'esercito Non era un attore Il doppiatore Di cui non ricordo il nome Ma lo vediamo subito Perché È giusto Dirla Per bene Raccontarla per bene Datemi solo Un secondo Ero Spagni È stato lui A doppiare Il sergente Hartman Noi ricordiamo La versione italiana Che è stata Ancora di più Sopra le righe E sono state battute Chiaramente Il testo era forte Ma il modo In cui lo fa Ero Spagni È ancora più Sopra le righe Di quello che sentiamo In originale Perché ricordiamoci poi Che L'errore grande Che fa il pubblico Che vede i film È di pensare Che La distribuzione Dei ruoli Per un film Vada fatta In base Alla vocalità Simile Assolutamente no I direttori Scelgono gli attori Per la bravura Attoriale È chiaro Che non si potrà Mai avere Lo stesso timbro Si deve avere La stessa capacità Attoriale In quel caso A mio modesto parere Il doppiatore Era molto più bravo Dell'attore E quindi Poi Queste diventano Perle Miliari Del doppiaggio In questo caso Parlando di Doppiare le voci Ricordiamo Ad esempio Top Gear Jeremy Claxon Che è Una voce Molto profonda E fu doppiato Per un periodo Da Pietro Ubaldi Che la voce Non è profonda Anche se poi Con Barbosa Aveva dato Quella Quella Profondità Ma chiaramente Piero Ubaldi Sa gestire Sa dare Più voci E adattare Più voci Ma A questo punto Nel attraverso Dei domande Più banali Quale scena Quale battuta Ti ricordi Dei film Che hai visto Del passato Che poi Hanno dato Lustro Un po' Al mondo Del doppiaggio Perché Ricordiamo Frankie Segnor Le frasi Sono anche Poi inventate Perché Non sono Quale Quale frase Ti verrebbe Da dire E utilizzare La tua voce E recitarla In questi istanti Jack Sparrow Mi piacerebbe Mi sarebbe piaciuto Molto doppiare Jack Sparrow Quando lui Per esempio L'ha doppiato Bocca nera Quindi Adesso provo A imitare lui Perché ricordo lui Diceva Poi usava Molto il corpo Quindi era Un po' Tipo Ogni uomo Che indietro Rimane Indietro Viene lasciato Dritta la meta E conquista La preda Ecco Una cosa Del genere Mi piacerebbe Sì Mi sarebbe piaciuto Molto fa Ma è andata Diversamente Sono un po' Più giovane Magari Ci saranno Altri pirati Da doppiare Ecco Quel film Sì Quel personaggio È veramente Fatto bene Pensato bene Che gli vuoi dire E invece Il mondo Di anime Come ti trovi Col mondo anime Sono poco Sono poco Interessato Che non voglia dire Che poi Perché al doppiaggio Chi fa quel tipo Di prodotti Fa veramente Fatica Per non dire Altro E quindi Tanto Veramente Tanto rispetto Per chi fa Quel tipo Di prodotti Io sono Onestamente Sono poco Ne guardo Pochi Nonostante Poi Sentendo anche Il parere Di gente Più giovane Sono molto Belli a livello Di scrittura A livello Di contenuti Io Guardavo Ogli e Benji Guardavo I Digimon Guardavo Quel tipo Di prodotti Ma perché Insomma Ero bambino E mi piacevano Però a livello Di Modo Di doppiarli Su quello Sono poco Ne ho fatti Pochi Insomma Quello Devo dire Ne ho fatti A livello Sempre Di laboratori Ci siamo esercitati Anche in questo Tipo di prodotti Ma Non è il mio Core business Del doppiaggio Devo essere onesto In quel caso Molto spesso Nasce prima la voce E poi nasce il disegno Quindi Un pochettino Più complesso Perché Giapponese Poi la parola Giapponese È molto Più sintetica Molto più Stretta E invece Il rapporto Con la musica Come Come vedi Il rapporto Con la musica Mi piace Tanto Il rap Io poi Non sono ovviamente Un rapper Non li conosco tanti Però ascoltavo Eminem Da bambino E quindi Quando poi Ho ascoltato Altre canzoni Negli anni Ho sempre cercato Di ascoltare Quelli Di quelli bravi Non sono amante Dei rapper italiani Per esempio A parte Fabri Fibra Che è uno dei pochi Che ancora mantiene Il ritmo Perché c'è C'è quel beat Che poi fa Rende bravo Un rapper Io non amo La trap Ecco È l'unico genere Che forse Non amo Ho anche L'autotune Il concetto Di modificare La voce Per me Non esiste Per me Un cantante Deve cantare Chitarrista Deve suonare Insomma Non amo Particolarmente Per quanto poi L'ascolti Non amo La musica Elettronica Per me La musica È Chitarre Batterie Nel caso Del rapper Ecco Andare a ritmo Avere una musicalità Anche nel parlato Quindi quello sì Altrimenti Come genere Rock La mia ben preferita Sono i Green Day Mio fratello Mi faceva ascoltare Gli U2 Tuttora Le ascolto Però sì Principalmente Vado a concerti Di musica Rock E poi Ho questa Simpatia forte Per il rap americano Tu sei stato ospite Nell'ultima puntata Di Radio Cigliano Che cosa ti porti Di quella puntata Perché Cigliano È Poi A livello Più naturale Noi lo conosciamo Con il cani guerriero Da lì Cobra Undici A un'istituzione È stata un'istituzione Perché Penso che sia finita E Che cosa ti rimane Di quella trasmissione Soprattutto perché È stata un po' Laboriosa Ma soprattutto complessa Perché poi Ho avuto anche Ricitare in quel momento Con un osservatore In più Allora Intanto Una piccola cosa Su Alessio Cigliano Che saluto Nel caso dovesse guardarmi Io Penso che lui Si sia veramente Non superato Si è stato veramente bravo Nel doppiare Heat Ledger In Brockback Mountain Se non l'avete visto Andatelo a riguardare Perché È Quasi impossibile Riconoscerlo E credo che Anche per lui Sia Un complimento Quando uno non si riconosce Ha fatto veramente Un bel lavoro Quindi Ancora complimenti Ad Alessio Per quel tipo di È stato veramente bravo Tornando a me Quella sera Io Ci tornerei adesso È stato È stato bello È stata veramente Una bella serata Anche con i colleghi Con gli amici nuovi Con Leslie Quando insomma Per due ore piene Ti arricchisci di continuo Tra un aneddoto Un racconto Semplicemente Una frase di un amico Che sta lì Come te Un consiglio Cioè Sono quei momenti Dove Passa il tempo E ti arricchisci Sempre di più Poi alla fine La lettura Per fortuna Ha avuto anche Un Un buon risponso Anche da Leslie Che non mi ha detto nulla Di A livello di correzioni Questo mi sembra anche Strano Perché loro Comunque ne sanno Più di noi Comunque qualcosa in più Dove potrebbero sempre dircela Mi porto Veramente un bel ricordo E Una bella serata Sembravamo Sei amici Di vecchia data Che si rincontrano Dopo tanto tempo E a questo punto Noi intanto Ti ringraziamo Per essere stati ospiti Poi ci diamo appuntamento Nei prossimi tempi Per raccontarci Come procede Questo mondo Il doppiaggio Che è sempre In evoluzione Quindi A questo punto Ci manca Soltanto una cosa fondamentale I saluti finali Saluto tutti Gli ascoltatori Pietro Che è stato gentilissimo Ad ospitarmi oggi Io Vi terrò aggiornati Se volete Seguitemi su Instagram È la piattaforma Dove aggiorno Più spesso Insomma Tutto quello che mi succede In sala Ma anche Nei corridoi Del doppiaggio Perché Molto spesso Adesso siamo più lì Che in sala Perché vogliamo Vogliamo farci sentire E farci conoscere Quindi Su Instagram Io mi chiamo Sì Se cercate Giulio Sassanelli Mi trovate Il mio nome è scritto Iulio Tatino Basso Doppia S Insomma Però mi trovate comunque Se volete quindi Continuare a seguirmi Fatelo pure Insomma Ci riascolteremo Ci rivedremo Su questi schermi Piccoli schermi Studio 7 TV E Sport Picciano Game Hanno presentato L'intervista di Pietro Ospite della puntata Ho un microfono davanti Sto pronto ad attaccare Trappi neppicce notte Non posso sbagliare Il rap è la mia droga La mia vita è il mio stare Pietro All'intervista Pronti a ricordare Le strade di questo sport Sono piene di ostacoli Ma la mia fede E la mia passione Sono incredibili Studio 7 TV L'avventura è iniziata Le mie rime taglienti Come una lama affilata Le mie rime taglienti Come una lama affilata